Ciao amici di GEMBA, io sono Azoto e benvenuti a questo nuovo video, oggi parleremo di Gulf of Oman, ricordo che abbiamo già trattato di Strike at Karkand e di Wake Island nei video precedenti, questo è il terzo e quindi è la terza mappa del pacchetto di Back to Karkand, 3 di 4 mappe e che altro dire, era una mappa presente in Battlefield 2 e è stata successivamente trasportata in Battlefield Play for free e appunto è inclusa nel pacchetto Back to Karkand, questo DLC per Battlefield 3 uscito il 13 dicembre, è una mappa molto grande, una delle più grandi sicuramente e la cosa figa è che vede la presenza di tutti i veicoli, tutta la gamma di veicoli che Battlefield mette a disposizione del giocatore e in più sono presenti anche quei veicoli nuovi che sono stati introdotti con questa espansione, quando parlo di veicoli nuovi parlo di F-35, BTR penso, no non c'è lo skin loader mi dispiace, almeno credo, dovrei dire una cavolata, no non mi sembra che ci sia in questa mappa in ogni caso iniziamo pure ad analizzare la mappa come siamo soliti fare e vediamo un po' che veicoli sono presenti nello specifico in questa mappa benissimo, gli americani nella loro bellissima e spaziosissima porta aeree hanno a disposizione i soliti gommoni RH e B, poi un Viper, un Venom e due F-35 mentre i russi possono trovare la maggior parte dei loro veicoli dietro la città e quindi avranno a disposizione due Flanker, un Avoc, un T-90, una Jeep e un BTR e poi mi sembra inutile dire che sparsi per tutti gli altri punti si possono trovare dei carri armati, delle Jeep e dei veicoli anfibi come BTR a PC ah e ci tenevo a precisare che questa mappa può essere giocata sì in Conquest Assault ma anche in Conquest normale quindi non ci sono né attaccanti difensori insomma il Conquest base di Battlefield 3 ed eccomi a bordo di un bel F-35 ragazzi, visto che molti me l'avevano chiesto avevo intenzione in questo video di spiegarvi molto brevemente come funziona questo coso, non è che sia proprio bravissimo però ho avuto la possibilità di farci un po' di pratica ecco e potrò dirvi quello che so molti mi scrivevano in PM e magari mi chiedevano ma cosa ne pensassi insomma di questo aereo e mi dicevano ma non credi che sia particolarmente scarso contro gli altri jet sia destinato a subire insomma io credo di no e secondo me se tante persone pensano al contrario è perché lo utilizzano come se fosse un jet normale cosa che non è, infatti come potrete vedere ha una modalità di volo molto particolare ovvero l'over in mode questa modalità che vi permette di fluttuare a pochi metri dal suolo ecco ed essere quindi una macchina della morte per la fanteria e i veicoli terrestri ma entriamo un po' più nello specifico ecco analizziamo nei pregi e difetti partendo però dai difetti ecco bisogna riconoscere che questo jet è obiettivamente meno manovrabile rispetto agli altri e questa cosa secondo me è anche dettata dal fatto che prevede modalità di volo differenti ecco un errore molto comune è quello di entrare in questa modalità di volo chiamata hovering mode effettuando una virata troppo stretta e quindi frenando troppo dovete sapere che la velocità nella quale si attiva automaticamente questa modalità è sotto i 300 quindi voi dovrete mantenere la velocità mentre effettuate una virata appunto dal 305 a 320 quindi una rapida pressione a 320 vi porterà già a 305 quindi ricordatevi non premete troppo a lungo il pulsante di frenata a meno che non vogliate scendere appunto sotto i 300 e questa cosa non deve accadere ma bisogna riconoscere che anche padroneggiando questa tecnica non sarete in grado di rivaleggiare con i flanker e a questo proposito io vi consiglio una buona tecnica ovvero quella di sfruttare questa hovering mode questa modalità di volo alternativa che possiede solo questo jet e quindi cosa dovrete fare? beh molto semplicemente quando avrete un flanker alle spalle dovrete riuscire a curvare e a mettervi in hovering mode volontariamente questo porterà il flanker avversario a ruotarvi attorno e voi sarete semplicemente il centro di una circonferenza una circonferenza appunto dettata dalla traiettoria che avrà il vostro nemico e quindi non riuscirà mai a vedervi e in tutto questo ruotare ecco il vostro nemico sarà a portata dei vostri cannoni e mettiamo in evidenza anche questa cosa i cannoni dell'f35 sono i più potenti di tutto il gioco ma sono anche i più difficili da utilizzare perché hanno un bullet drop veramente eccessivo ciò vi porterà ad anticipare i colpi e a mirare molto più in alto dei vostri bersagli quindi state molto attenti è molto difficile da padroneggiare ma vedrete che col tempo e con l'esperienza verranno fuori belle cose insomma e per quanto riguarda invece l'hovering mode ecco molti mi hanno detto che quando la utilizzano ecco l'aereo tende ad atterrare da solo al suolo ecco per evitare questa cosa dovrete inclinare il muso leggermente in avanti e l'aereo andrà in avanti scusami palma comunque questo è quanto per tutto ciò che riguarda l'f35 per quanto invece concerne la mappa ecco come si estende come è strutturata si può sicuramente dire che le bandiere sono collocate in punti molto differenti i primi 4 con il leiato da conquest che vede appunto 7 bandiere le prime 4 sono collocate sul lungomare in una zona di spiaggia desertica che vede veramente poche poche coperture e in queste zone i veicoli hanno il predominio l'affanteria non è assolutamente svantaggiata perché può comunque dire la sua nella zona più urbana vicino alla città e nelle due bandiere adiacenti appunto alla città quindi appunto varietà come sempre in tutte e quattro le mappe di questo pacchetto in questo in particolar modo solo che diciamo queste due zone sicuramente sono molto più differenziate la marcatura è sicuramente più evidente ecco allo stesso modo possiamo dire che i veicoli avrebbero una vita molto dura se si muovessero solo ed esclusivamente all'interno della città e questa cosa cadrebbe appunto perché ci sono molti edifici all'interno della città edifici nei quali si possono nascondere ingegneri e predare facilmente qualsiasi veicolo se addentri troppo all'interno della città ma soprattutto anche perché ci sono numerose strade numerose vie obbligate quindi sulle quali si possono piazzare facilmente le mine quindi è una mappa molto curiosa che offre una varietà decisamente rimarcata questa zona secondo me riservata all'infanteria e questa zona nella quale i veicoli sono appunto predominanti in cui ci sono poche coperture ovviamente questa è una mia interpretazione però secondo me è abbastanza buona ecco ovviamente siete liberi di lasciarmi tutti i commenti che volete farmi sapere cosa ne pensate in ogni caso volevo chiedervi scusa visto che siamo anche giunti alla fine del video volevo chiedervi appunto scusa perché che probabilmente si sente a un raffreddore della madonna e c'è una pila di fazzoletti allucinante qui sulla scrivania in ogni caso spero questa guida, questo commento vi sia piaciuto e ci vediamo sul golfo di Oman ragazzi ciao ciao